... Diversi uomini hanno perso la vita nella disperata ricerca di Amunaptra. Molti non sono mai tornati. Credo che tu abbia trovato qualcosa. È chiamata la porta dell'inferno. Oh mio Dio, allora esiste. Avete liberato una creatura che temevamo da più di 3.000 anni. Egli è un portatore di morte. Niente lo fermerà mai. La Universal Pictures vi invita... ...a vivere un'avventura straordinaria. Oltre la vita... ...e il tempo. Attacchi! Voi! 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 Voi!